Buongiorno Siamo stamane e domani poi si vedrà A chacchi giorni suffisano appena, dicono le francese Ogni giorno la sua pena Quindi forse oggi ci sarà qualcosa nel pomeriggio? Oggi non c'è nel pomeriggio Né oggi né domani Questo per permettere ai cardinali a discutere fra di loro Perché qui si può ma altrove in altro modo E bisogna combinare le due Perché anche qui tra le le c'è la pausa Poi altro modo E insomma Consentire a tutti Come si dice ripetutamente E conoscere meglio gli uni e gli altri E conoscere meglio La visione degli uni e degli altri Buongiorno Buongiorno Bene Grazie Buongiorno, buongiorno.